Buongiorno a tutti, oggi giovedì 9 maggio, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 16 versetti dal 16 al 20. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro che cos'è questo che ci dice ancora un poco non mi vedrete, un po' ancora mi vedrete e questo perché vado al Padre. Dicevano perciò che cos'è mai questo un poco di cui parla non comprendiamo quello che vuole dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro andate indagando tra voi perché ho detto ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete. In verità, in verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete ma il mondo si rallegrerà, voi sarete afflitti ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. L'espressione con cui si apre questo brano del Vangelo di oggi ci fa riflettere sul valore del tempo. Gesù indica con un poco il tempo che lui ha vissuto su questa terra come se fosse un attimo, come se il tempo fosse messo in relazione al senso della vista della sua persona. Riflettendo allora su questa situazione che Gesù ci presenta oggi intuiamo che il Vangelo desidera prepararci a un passaggio di senso che riguarda il senso della vista che come sappiamo il senso della vista è un senso molto frequente nella scrittura e che indica proprio la capacità di aprirsi allo spirito. E allora ci vuole preparare il Vangelo a questo passaggio dalla vista alla visione. Ecco il senso della vista è interessante perché ci fa puntare un obiettivo e per questo abbiamo bisogno di tempo perché è in relazione a una direzione precisa verso cui si è attratti e quindi l'esercizio della vista comporta anche il passare del tempo. Diversa invece è la visione che è qualcosa di più ampio, una sorta di allargamento di campo visivo, ci fa percepire il tutto senza bisogno di tempo perché può avvenire anche in un attimo la visione del tutto. Allora ecco il senso delle parole di Gesù. Per vivere di fede abbiamo bisogno non solo della vista spirituale ma anche della visione ed è grazie a queste due implicazioni visive dello spirito sulla realtà che possiamo accogliere in noi una diversa percezione anche del tempo che passa. Pensiamo a San Paolo che lungo la via di Damasco perde la vista e proprio perdendo questa sua vista su questa via ha potuto avere accesso alla visione del risorto. Ecco l'esperienza della fede è esperienza di visione e questa visione è possibile nel passaggio della resurrezione che oggi il Vangelo desidera comunicarci con queste strane parole di Gesù ancora un poco non mi vedrete un po' ancora mi vedrete e i discepoli non capiscono perché non hanno ancora accolto la luce della Pasqua. Infatti Gesù non risponde ai loro dubbi scaturiti da questa incomprensione ma li invita alla fiducia donando la promessa della gioia. La vostra tristezza si trasformerà in gioia perché la luce della Pasqua, la vista spirituale, viene dilatata attraverso questa luce, viene amplificata e così la visione, la vista spirituale alla luce della Pasqua diventa visione che fa cambiare la prospettiva di vedere le cose, non più una prospettiva terrena ma la prospettiva di Dio. Allora oggi anche noi possiamo alzare lo sguardo perché è necessario ancora un po' e tutto cambierà prospettiva, il Signore ce l'ha promesso, ci colmerà il cuore di felicità, la potenza della risurrezione, la luce della gloria che invade le nostre esistenze e continua a stravolgere le nostre vite ci rallegrerà nel profondo. È questa la nostra speranza, riceviamo allora questa promessa di felicità ancora oggi per la forza della proclamazione di questo Vangelo, del Vangelo che ci salva. Buona giornata.